Musica 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 L'ho presa per entrarti e... ... 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sosteniamo il terzo comparto. Tu devi placarlo portando a fermi la contegna della linea di prima. Tu sei? Non dobbiamo spaccare il braccio. Se andiamo dalla parte opposta, ne stacchiamo il braccio. Invece siamo qui a sostenerlo. Prendiamo in piedi. Non dobbiamo spaccare il braccio di portarlo a terra. Non dobbiamo spaccare il braccio. 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 Grazie a tutti.